Altre cose che deve ancora fare, aiutiamola a fare. Io faccio un esempio, pensando a fratture, parlo di raggi a Roma. Tutti quanti gli stanno addosso a dire, hai sbagliato quella sbagliata? Stiamo parlando di Roma capitale, ma aiutiamola a farla qualcosa, invece di mettere... I topi ci stavano pure prima, adesso tutti quanti state a contare i topi. Ma prima non li vedevate, aiutiamola a vedere, di farla funzionare la macchina burocratica.